Musica Tra 4 anni ti regalo ai miei notti migliori, concetto di regalarti qualche minuto dei miei giorni peggiori. Oggi è una giornata stupenda, vento, neve e apparentemente un freddo da cani. E non chiamarmi tesoro. Questa notte mi hai sorpreso. Ah sì, sì, per la tua età ti è stato eroico. La domenica qua, 5 del pomeriggio. Stai a prendere, faccio una dieta con la mia cappella. Tu pensi che possa continuare a vivere in questo modo? Praticamente no, non mi piangiamo te. Sarà tutto il giorno come potete costruire. Marcella! Si è gravata a prendere malattia. Te l'hai tirata due volte per una volta. Ti ascolto. Io credo che sia fatto il momento di rivedere i nostri piani. Ho disegnato una esce un po' più chiusa, lei ha una esce un po' più... Forse anche il destino quando si mette a insegnare delle esse non c'è modo di fermarlo. Sposati, alla tua età. Ah, non posso volare, non posso volare. Puoi voler che mi sega direttamente su. Forse, forse è arrivato il momento che mi racconti cosa è successo. Quindi lei non ha un'occupazione definita. No, cioè, no, cioè, no. Vivere. Che lei con me? Ah, eh, eh, eh. Ti ho baciata, eh. Cos'è? Una po' sorfonosa per le parole. Zitto. Ma ci sono ancora delle cose incontaminate che ti appartengono. Sì, mi fai dove mandate, eh? Non c'è verità. Cris! No, vedi, io sono uno di quelli che presume che per fortuna ogni uomo ha il suo prezzo. Mi fai il cielo? Solo un paio. No, vedi, io sono due, io sono due. Cosa un paio. Solo un paio. Solo un paio. Coverre la legge con me. E lei mi fai un paio che non lo fa. Toca ma. È un paio! E lei ne va. Grazie a tutti.